Eh? Sì. Sono neri bianchi e neri rossi. Sì. Io ho detto ho sentito Luca Maggi. Ma scusa non la fa Luca Maggi? Sì ma ce n'aveva dei gli adesivi in più me ne ha datti. No non la fa alla gara. Ah sì che la fa. Anche Cristina ha detto che la c'era. Sì ma fanno il prologo. Scusa. Non so. Qualcosa di che è più breve. Capito? Non lo provano. L'hanno già provato. Non lo vuoi. Io me la provo con calma se voglio vedere tutti i passaggi fatti normali. No? Stai dicendo. No è quello più importante. Vado? Sì vai vai. Ci diamo un po' di distacco va? Sì. Cioè non esagerato ma... Così lì me vedo meglio. Sì. 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 mi spiace che non sono riuscito a fare la consecutiva lì quindi vabbè bisogna passarci con me vabbè lì l'ho fatto giusto ma sono riuscito a entrarci un po' sbagliato no qua sbaglio sempre porca troia c'è lì a mi viene distinto ma stappustata ma stuante Grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.